che belli i brani con lo sfumone meravigliosi benvenuto in pompa magna a francesca riccioni adriano ercolani buongiorno 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 a tutti ciao francesca ciao scusate per l'orario mattutino che mi rendo conto insomma di sabato possa non essere particolarmente gradevole ma la radio ha i suoi tempi nessuna scusa sarà mai abbastanza però va bene va bene va bene ce ne faremo una ragione allora intanto grazie appunto per essere qui con noi non solo per l'orario ma anche per l'occasione esatto che insomma ci rendiamo conto possa non essere magari semplice insomma da da gestire a livello emotivo però noi ci tenevamo molto a fare questa cosa e già ormai da insomma un paio di settimane mettiamo ogni tanto dei dei riferimenti a tuono pettinato ma ci piaceva parlarne appunto con delle persone che hanno avuto strettamente a che fare con lui ci hanno lavorato più esatto sì a parlarne anche proprio dal punto di vista del del talento perché secondo noi è poi come diceva adriano nel ieri nel post che che ha pubblicato su questa diciamo approfondimento che ci sarebbe stato oggi i libri poi restano le cose poi restano oltre ai ricordi personali e quindi è giusto che magari anche chi non l'ha conosciuto come persona lo possa conoscere come artista francesca chi era tuono pettinato voi avete realizzato tre libri che uniscono tra l'altro uno dei lati peculiari di tuono pettinato uno su galileo uno su alan turing e poi come definiamo non è mica la fine del mondo è divulgazione scientifica ma fumetti voi siete voi due siete stati tra i le punte di diamante di quello che alberto angela e piero angela fanno in in televisione da un po come dacci delle definizioni dacci dei riferimenti com'è stato questo questi questi progetti come sono come è stato anche lavorare con lui esatto allora io non amo molto il termine anche se poi l'hanno utilizzato in tantissimi il termine divulgazione perché si presume che noi parliamo di cose semplificate per un pubblico semplificato invece no noi abbiamo provato a comunicare alla pari col pubblico infatti abbiamo lavorato tanto sulle conoscenze pregresse per per esprimere concetti che arrivavano da dal mondo scientifico e quindi io preferisco utilizzare il termine o narrazione scientifica o insomma comunicazione della scienza questo è un punto su cui abbiamo tanto discusso lavorando insieme e creando i libri che conoscete insomma com'era l'approccio invece più goliardico adriano ercolani al al tuono pettinato o il contrario com'è l'approccio goliardico di tuono ma come mai lo chiedi proprio a me questo non avevo altre persone se lo chiedevo a Flavia non ti chiamavamo no guarda tuono io dico sempre era come essere amici di Woody Allen nel senso che io lo definivo il campione mondiale di Calambur è veramente una macchina geniale di continui giochi di parole di idee continue noi eravamo tantissimi progetti insieme ma non solo con me con tantissime persone lui magari da una conversazione su un tema random poteva nascere una collaborazione un libro uno spunto una striscia lui era un grande fan di Bill Hicks e questa una cosa che abbiamo detto in tanti dalle persone che lo conoscevano tuono da un certo punto di vista era l'immagine della bontà nel senso se uno lo incontrava no alle fiere proprio di una tenerezza infinita ma in realtà la sua intelligenza era affilata e sadica come il più crudele degli stand up comedian per cui veramente la cosa straordinaria di tuono da un lato lui è in grado di raccontare delle vicende tragiche come quella di Alan Turing o come quella di Kurt Cobain con un pudore raro però in realtà ci potevi parlare dei cannibal corpse quindi so che radiche io purtroppo per motivi per impegni perché non ho potuto partecipare al funerale mi hanno detto che il grande radiche ha giustamente citato nella sua orazione fune per i cannibal corpse cioè per dire tuono veramente tuono è una persona che si ispirava a Borges ma poi potevi veramente parlarci di death metal come di filosofia mistica del settecento noi il nostro sogno era fare un fumetto insieme sulle visioni che aveva Svedenborg cioè su a proposito di concetti semplificati che non esistono comunicazione scientifica esatto dovevamo fare le cose su Svedenborg e William Blake e ehm per dire appunto Panic degli Smiths vabbè noi c'eravamo questo antico eh amore comune per gli Smiths volevamo fare anche eh un libro insieme andammo al concerto di Morrissey e facemmo per venire a Morrissey un enorme disegno di di un accendino fatto da tuono con scritto there is a light that never goes out e siccome Panic degli Smiths è stata eh come dire eh omaggiata eh in maniera geniale dava lei o Lundini io c'ho scritto un pezzo su XL perché è stata una cosa incredibile eh facendo ente dice ente dice ente dice invece che anche dei DJ e Lundini appunto essere una persona di grande intelligenza e sensibilità sappiamo anche che ha omaggiato tuono no 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 e c'è qualcosa secondo me in questo umorismo colto e surreale che gioca sull'imbarazzo sulla decostruzione di quello che è il linguaggio convenzionale ehm vuoi dire tuono è veramente una persona di un'intelligenza eccezionale a proposito di appunto dopo aver parlato della parte goliardica come abbiamo anche detto nella recensione di Corpicino di qualche settimana fa facendo proprio dei conti i conti della serva con tutto il rispetto per i conti e per la serva tono pettinato su wikipedia ha una media di ehm di pubblicazioni nel suo eh spettro artistico di 1.8 pubblicazioni in ehm all'anno all'anno vorrei sapere quindi da voi prima da Francesca e poi da Adriano l'approccio l'approccio scientifico o meglio come lavorava come entrava in progetti anche molto diversi tra loro nello stesso momento ieri abbiamo incontrato eh Maria Letizia Mirabella una letterista alla nel ciclo professione fumetto che ha l'attivo in questo momento in questo periodo undici progetti diversi fa la letterista quindi forse se sono abbastanza ignorante potrebbe essere un pochino più facile per rispetto ad un eh beh è uno che li cura tutto certo sicuramente Francesca come come entrava in non posso dire in sala di disegno in sala di doppiaggio nel lavoro nel progetto appunto con un ritmo così serrato e appunto con tematiche stili così diversi stili però con approcci diversi io appunto l'unica cosa che posso dire perché asciugo il il mio primissimo approccio con tuono pettinato è stato per l'intervista a nevermind io pensavo che tuono pettinato fosse una definizione un sottotitolo per colco bain e per dire no come entravo molto preparato dire la preparazione anche però appunto questo cortocircuito tra il contenuto il contenitore e poi l'ho ritrovato in tutto il progetto Francesca come come si faceva a fare un libro con tuono pettinato allora per quanto riguarda i lavori che ho fatto con lui c'era la proposta quindi parlo di enigma per esempio quando gli raccontai di della storia di Alan Turing si appassionò all'istante insomma e poi c'era tutto un vabbè io avevo fatto tutto un lavoro sulla letteratura già esistente riguardo Alan Turing e poi c'era il momento della trans in cui io andavo a casa sua e finché il libro non era finito non uscivo quindi avevamo una specie di organizzazione come se fosse una residenza artistica quindi lavoravamo H24 e soltanto quando avevamo voglia di lavorare quindi c'erano anche dei lunghi momenti di sbago di guardare altre cose di fare brainstorming quando avevamo voglia alle tre di notte la mattina presto non c'era una regola di da mettersi alla scrivania e fare ecco era tutto molto 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 spontaneo e e quindi questo mi ha permesso anche di conoscerlo come come persona come non solo consegnando il lavoro o lavorando in solitudine ecco quindi è stato importante anche per per conoscerlo e per sapere chi è oltre ai suoi libri aveva dei rituali un qualcosa un oltre al teuccio anzi il teino come spesso è stato ricordato aveva magari un momento è un teista era ovviamente il il servito del tè poi c'erano le merende facciamo merenda spesso nella giornata c'erano le nastrine con latte c'era varia condizionata sempre sparatissima infatti quando abbiamo fatto il libro sul clima molto in colpa ma non l'avete spento immagino no no non l'abbiamo spenta non l'abbiamo spenta e poi c'era questa è un po come tutto gli eschi quando denunciava i problemi del gioco d'azzardo esattamente bravissimo e poi c'era questo scherzone perché io invece sono freddolosa e quindi c'era la mamma alia che mi consegnava la coperta appena arrivavo perché io stavo con la coperta e poi la sera lui spengeva questa aria condizionata io mi svegliavo sudata perché ero ricoperta di lana ad agosto c'era questo momento buf Adriano ma guarda lui c'è una cosa anche che voi che mi conoscete sapete che io condivido con lui oscillava tra l'indolenza prossima alla paralisi a come ha detto francesca delle fasi di trans di iperattivismo creativo io racconto solo questo aneddoto in questi giorni è uscito anche in allegato con la rivista l'est è stato ripubblicato da castelvecchi è un libro veramente bellissimo molto importante che è pdi a sedi massimo palma che parla appunto di genova 2001 in 10 secondi il libro racconta la settimana tragica di genova attraverso le canzoni dei gruppi di manchester degli anni 80 e facendo un parallelo anche con l'uomo che fu giovedì di chester ton e lo scritto in inglese mentre vi parlo davanti a me un un disegno che mi piace tuono di chester ton mad chester ton maggiando appunto la mad chester la la manchester degli anni 80 e quindi tuono con molto entusiasmo aveva anche la sua grande generosità aveva accordato di fare delle illustrazioni di tutti i front men di tutti i gruppi di manchester e poi non le faceva guarda tono manca un mese sì sì no ma tranquillo mi sto scherzando il libro bellissimo lo faccio sicuramente tono guarda mancano le settimane no no ma sai che vuole fare pente la notte prima di andare in stampa ha mandato 13 tavole il senso del tempo era veramente c'era spesso anche guidato dall'ansia della consegna che arrivava all'ultimo secondo e per enigono mi ricordo per la prima volta l'ho visto in paranoia ovviamente per la consegna mi ricordo questo momento di notte dove sarà lui preoccupatissimo e sono stata io forse per la prima volta a tranquillizzarlo hai messo la copertina tu siamo fatti un pediluvio quella volta che meraviglia allora io vi chiedo tecniche meditative esatto esatto meditative vi chiederei a questo punto prima di salutarvi se doveste diciamo raccontare a qualcuno che non ha conosciuto a parte lui come persona ma anche lui come artista che non conosce lui come artista un nato adesso sì esatto cioè se doveste spiegare cos'è chi era tuono pettinato dal punto di vista appunto del suo lavoro no però immagino che questo sia strettamente unito anche alla alla sua persona cioè non credo che le cose siano completamente scindibili alla luce di queste informazioni tuono pettinato diventa quasi una definizione del caos io direi uno ciascuno una una breve diciamo spiegazione per chi non lo conosce francesca oddio una domanda difficilissima perché è una persona incommensurabile che riusciva a a concretizzare le idee ecco un concretizzatore di idee semplice e geniale la sintesi della genialità era secondo me e poi aveva un cuore cuore gigante e sono felicissima di averlo conosciuto alieno a tuono era intelligente come egno flaiano colto come borges e sensibile come leopardi era veramente una persona di intelligenza e è un miracolo tuono perché c'era una corrispondenza fra opere autore che soltanto nei grandi autori si riconosce grazie mille grazie mille a entrambi a voi colani francesca riccioni grazie di essere stati con noi di aver ricordato con con noi tuono pettinato francesca immagino che stolen car di bert horton sia stata forse una sottofondo di una di queste torture a base di full immersion no in realtà è un pezzo che è uscito alla fine degli anni 90 e lui mi regalò il cd perché lui aveva un amore per il folk e io in quegli anni ascoltavo il rock alternativo femminile americano slater kinney mira kaya wilson e lui mi regalò questo disco questa canzone poi è ritornata anni dopo quando ci siamo trovati a manchester per l'esos un grande convegno e negli stessi giorni sarà questo festival sotto il più grande radiotelescopio europeo e sono anche bett horton e quindi riascoltiamo questa canzone che ci legava dalla fine degli anni 90 quindi è un pezzo a cui sono molto affezionata grazie mille francesca urge a questo punto una playlist dedicata a tuono contributiva assolutamente facciamolo ciao ragazzi grazie grazie ciao 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 Ciao, ciao.